Utile in calo per Ford rispetto al terzo trimestre dell'anno scorso, ma sostanziale tenuta dei conti in un mercato debole. Per la casa americana è la decima trimestrale consecutiva in positivo con 1,69 miliardi di dollari di profitti, 1,22 miliardi di euro, che corrispondono a 41 centesimi per azione. Al netto di poste non ricorrenti, l'utile è di 46 centesimi per azione. È improbabile anche per quest'anno però la distribuzione di un dividendo che manca dal 2006. È grazie alle vendite in Nord America che i ricavi sono cresciuti del 14%. Il colosso dell'auto arranca invece in Europa, 220 milioni di euro la perdita anteimposte in netta crescita rispetto all'anno scorso.